grazie se continui a girare lì qua non c'è riva è quello di prima quello di prima che eravamo in volo era già in aria perché l'Aramis, questo è Giacomo l'Aramis ha un... no no, a terra lì mentre ci va perché è stato di proprio perdere tempo andava via, andava via non è neanche il nuovo quella dell'Aramis